Abbiamo ritenuto fosse opportuno di nuovo confrontarci sui temi della sanità e dei servizi sanitari e sociosanitari che per noi hanno avuto una svolta importante dopo la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Piario, ricordiamo, nel 2018. Quindi riprendendo da quel punto abbiamo inteso scrivere ad ASST Bergamo Est per confrontarci sullo stato di attuazione di quella decisione di Regione Lombardia e su quanto quella decisione ha comportato in termini di nuovi servizi. Superata la fase pandemica che ha visto tutte le strutture ospedaliere, in particolare molto coinvolte, riteniamo sia doveroso fare il punto della situazione e capire quindi rispetto a quelle decisioni ma anche rispetto alla nuova riforma regionale della sanità che nel frattempo è intervenuta e con i fondi PNRR quali servizi la SST Bergamo Est intende portare avanti sul nostro territorio. Sono molte le iniziative che erano state proposte, alcune sono state anche accolte su proposta dell'ambito e dei nostri amministratori. Per esempio avevamo proposto il primariato di radiologia e dei servizi di integrazione ortopedici geriatrici e con favore abbiamo appreso che queste proposte a Piario ora sono già operative. Ci fa piacere quindi che a SST Bergamo Est abbia condiviso queste proposte ma molte altre sono ancora sul tavolo quindi è necessario fare il punto della situazione. Appunto i lavori che sono in corso di svolgimento a Piario state chiedendo anche l'UMI su quello? Sì mi riferisco in particolare ai lavori di ristrutturazione edilizia dell'ex lavanderia che sarà il nuovo centro per i disturbi del comportamento alimentare. Ecco ricordo che questa era una delle iniziative previste dalla DGR del 2018. Sappiamo che per motivi inizialmente non prevedibili i lavori si sono dilungati ma a questo punto vogliamo delle date. Abbiamo bisogno di sapere se ci saranno delle tempistiche certe per l'apertura del centro dei disturbi del comportamento alimentare a Piario. Chiedete certezze anche per quanto riguarda le case della comunità? Sulle case della comunità sono in corso delle interlocuzioni. Abbiamo chiesto in particolare dei confronti diretti perché il tempo sta passando inesorabilmente e sappiamo che le tempistiche che Regione richiede, PNRR richiede, sono molto strette. Quindi ci siamo confrontati anche a livello di Consiglio di rappresentanza dei sindaci e in particolare l'ambito Alta Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve ha posto il tema circa lo stato di attuazione e la dotazione economica che verrà inserita nelle case di comunità rispettivamente di vil minore e di clusone. Quindi anche da questo punto di vista per noi è importante sapere quali investimenti sugli immobili sono già stati fatti e si intendono fare e soprattutto quali servizi a SST Bergamo Est ha pensato di introdurre nelle nostre case della comunità. E resta comunque la delusione per una laurea in scienze inferministiche che non è arrivata sull'alto piano nonostante le richieste. L'iniziativa è partita proprio dal nostro ambito ed è stata accolta da SST Bergamo Est. La delusione è rammarico, un pizzico di rammarico è che quando abbiamo candidato Piario come polo universitario ecco non l'abbiamo visto scelto come sede operativa del corso di laurea in scienze infermieristiche. Ma siccome non avevamo chiesto solo quello c'è ancora spazio affinché anche nel nostro ambito possa trovare sede un polo universitario distaccato.